ok oggi chiudiamo oggi giusto per fare un video non uso mai la nasa e oggi ho fatto questo video con una nasa abbastanza grande 8 anelli e allora ho voluto fare un video di rilascio ecco qua oggi ci abbiamo diversi abbiamo quasi una ventina di chili di pesce a occhio e croce adesso pian piano li lasciamo andare siamo tutti piano 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 qua un bel picollo eccolo picollo pivo pivo quasi tutti pighi e oggi oggi una marea di pighi ecco questo un bel pico e non è uno dei più belli belli adesso arrivano ecco qua pivo altro pivo altro pivo e qui uno questo sua maestà questo è un bel pigone è un bel pico questo è qui siamo pighi da chilo e passa ecco è andato anche lui ecco un altro pico ecco un altro che se ne va è andato da solo ecco un altro mega pico e questo se riusciamo a prenderlo e questo se riusciamo a prenderlo eccolo qua ecco un super pico è bellissimo è oro oro puro ecco un altro pico ecco ecco un bico un altro zaw групп italiano ecco un altro via e ce ne va anche lui ecco un altro una marea una marea di pighi pighetto vediamo come siamo messi e siamo all'ultimo pezzo poi l'ultimo pezzo che si prende l'onore del quattro chili e 3 4 kg e 3 di barbo non riesco neanche a prendere talmente grosso ecco qua bel barbotto bel barbotto bello è 4 kg e 300 eccolo è andato anche lui vai sei libero va bene ok a posto anche oggi è andata domani vediamo sono un po cotto e oggi mi hanno fatto lavorare però vabbè non è male dai alla prossima super barbone pescando a cavedani e pighi preso con una tournament a gs limited super light abbiamo un finale dell'11 7 falcon prestiglio amo del 18 anzi no amo del 20 idra è un bel barbone qua ragazzi miei siamo oltre siamo sui 4 kg qua è solo pesiamo ma siamo sui 4 kg tutti ha impegnato un bel po è stato un bel impegno con una canna super light anche perché finale non è tanto un 17 insomma anche se magari sarà un po maggiorato diciamo un 12 e mezzo comunque un bel tiro di canna è stato bello una lenza abbastanza spallinata leggera morbida bel pesce adesso lo slamiamo poi faccio il peso e lo rilasciamo bel pesce bello bel pesce mamma mia che zuccone bel zuccone oggi 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 è una giornata splendida bella giornata oggi mi hanno fatto i complimenti cioè mi hanno fatto i complimenti mi hanno detto prima di partire qualcuno mi ha detto buona pesca l'ho ringraziato perché a me il buona pesca può star sempre bene io non ci credo a ste balle del buona pesca di fatti mi auguro sempre che me lo dicano perché sono giornate favolose di fatti sto prendendo oggi pighi diversi pighi da chilo e oltre ed ora è arrivato anche il barbotto adesso lo slamiamo ecco qua ok andiamo al peso ok andiamo al peso parco cani poi c'è da togliere la nasa e il badino la testa che mi sembra che è 4 etio 350 comunque siamo sui sui 4 kg e 3 bel pesce ok mamma mia ecco cani bel pescione bel pescione non ce la faccio più 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 non ce la faccio più